eccola picciotti guardate qua c'è il sugo e qua c'è la pasta appena scolata forza mamma condiamoci a bella pasta e sta tutto il suo condimento qua guardate picciotti è una meraviglia una meraviglia guardate qui e che ciavoro che ciavoro ok c'è di impazzire con sé iniziamo con gli ingredienti dal libro antico di mamma quando scriviste la ricetta della pasta di san giuseppe hai elencato questi ingredienti cipolla passulino e penone sarde pomodoro e finocchietto su finocchietto come faciste? l'ho bollito e poi l'ho tagliuzzato perfetto quindi questa è la pasta abbiamo questa bucatini si può fare anche con gli spaghetti però la classica è la classica è un'altra cosa noi facciamo la versione rossa ma c'è anche la versione in bianco con lo zapperano a noi non piace professionistica di tutte e di più versione e non versione però iniziamo vai mamma metteci l'oglio che io ti ci tuffo questa bella cipollina metticela cipolla vediamo quanto olio ho messo ma l'oglio giurre con le tue cipolle ci penso io e iniziamo con il soffritto si signore allora segreto volete fare un soffritto bello gustoso ci sciogliete una bella acciughina chisciotocco segreto non l'abbiamo detto all'inizio però ci vuole l'acciughina è sciolta la cipolla è imbiondita adesso possiamo aggiungere passolina e pinoli dimmi quanto tutti 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 abbondanti mi faccio per me se insegna come è mia abbondiante no perché si deve sentire il dolce dell'uvetta qua della della passolina già c'è un ciavolo picciolto a questo punto si può aggiungere il sugo io mi scanto però ma di chi mi scanto se l'oglio scatta io mettiti un po' con fece d'acqua a questo punto insaporiamo il sugo e ci mettiamo un po di sale così come ok ok c'è assai tu dirlo ma non è capace di rione poi zucchero che allora zucchero perché io da per tutto metto lo zucchero ma così bravo io ci metto ma bene che si perché praticamente ci toglie l'acidità del come da picchiare io metto un bucino di zucca non so proprio poi un'altra cosa che metto sempre il mio sugo a questo sapore questa specialità cannella ecco la cannella non manca mai io sugo e io ce la metto si e poi tocco finale che avevo che non resta e poi peperoncino bello piccante siamo piccante e veroncino fresco e arrimino un po come ne appena un sugo comincia a pepeare che fa queste bollicine si ci mettono gli altri ingredienti quale sono e sono le sarde eccole qua eccole qua le sarde ma è tutta così ci può zittare no pensa il cito pensa il cito ecco così a 1 a 1 diciamo ma tutta è tutta ammunzello giusto ma così perfetto adesso finocchietto alla ma dimmi quanto perché mi pare assai il cito finocchietto si si metti ancora metti ancora aspetta fermate fermate vediamo perché sennò viene troppo bello allora picciotti adesso si metto un cupecchio si chiude e si lascia così a fuoco lento per una mezz'oretta va bene ok va bene pronto è finito picciotti importante un altro segreto questa è l'acqua del finocchietto dove abbiamo bollito il finocchietto questa la dovete conservare per chi poi la va a mettere una pignata e cicalama pasta nasce acqua che è diversa dell'acqua solita di cottura più saporita ancora cicalama pasta eccola perfetto ma ora in questa padella ci sarà il tocco magico la cireggina sulla torta di questa pasta fantastica olio riscaldato in padella e ora facciamo amor di catturata fresca cuore il tocco siciliano che lo zucchero e poi chi se ci avete munca papascia come se fosse un formaggio si però lo zucchero dopo si si no no nella padella calda no solo la mollica così che l'atturriamo l'atturriamo ora zuccheriamo la nostra murdì catturata guarda amore guarda che c'è qua e così va bene così va bene e ora sulla pasta chiusi che mangiare siciliano di san giuseppe e ora picciotti dopo questa bella sforberata siamo pronti per l'assaggio finalmente questa pasta san l'ordiano tutti i tuoi di burrucchini ha fatto appunto croce di me nonna però l'assaggio lo dobbiamo fare è difficile è difficile si scappano oddio 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 è buono è buono complementa ciao picciotti condividete il video mangio 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 che buona amico è buono